Il gol di un giocatore italiano a San Siro durante Milan-Fiorentina manca da quasi 5 anni. Era il 25 marzo 2006 e a realizzare la rete del 3-1 contro i Viole sta Torino-Gattuso. Da allora solo gol brasiliani. Dopo lo 0-0 del maggio 2007, nel settembre dello stesso anno è Kakà a segnare su rigore la rete del momentaneo vantaggio rosso-nero, prima di essere raggiunti da Mutu. Poi, nel gennaio 2009, arriva la vittoria per 1-0 grazie ad uno splendido gol di Alexandre Pato, mentre nel maggio dell'anno successivo è Ronaldinho a regalare il successo al Milan con un preciso rigore nel finale di gara.